proseguendo la lettura del Vangelo secondo Matteo l'Evangelista Matteo continua a raccontarci la vita di Gesù e questa volta ci racconta come Gesù insegna e guarisce ed ecco cosa dice l'Evangelista Matteo Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo la sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati tormentati da varie malattie e dolori indemoniati epilettici e paralitici ed egli li guarì grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea dalla Decapoli da Gerusalemme dalla Giudea e da oltre il Giordano grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima